Buon pomeriggio dal Blue Energy Stadium di Udine. Un saluto a Bianco Celeste da parte di Luigi Nibaldi in campo Udinese e Lazio. Tutto pronto per il fesco di inizio? Via, partiti per questo match. Pellegrini con il sinistro, Rovella con il destro. Va invece Luca Pellegrini! E' il primo gol in bagno a Bianco Celeste per Pellegrini! La mossa all'interno di questa partita, la sua conferma. Pellegrini va a esultare sotto il settore ospiti Bianco Celeste. Al dodicesimo, Lazio in vantaggio.